Sono Ken Block e questo è Coley McRae Dirt 2 Codemaster è brava a fare i giochi di guida Con l'uscita di Dirt 2 la conferma è arrivata a tutti gli effetti Dopo aver sfornato un capolavoro come Grid Codemaster produce e realizza Dirt 2 Un gioco divertente e di qualità davvero elevata Ecco l'evento più importante, i giochi X americani Solo i migliori piloti del mondo vi possono prendere parte Quindi devi dimostrare quanto vali Guarda tutti questi nuovi eventi Ti stai facendo un nome Ecco il Tour Mondiale Rally Buon divertimento La nostra carriera si svolgerà all'interno di un circuito di gare Denominato World Tour Un sistema già collaudato di eventi sbloccabili Mano a mano che si progredisce nel gioco E si migliora il proprio livello di fama Le categorie di eventi principali vedono Oltre alle classiche gare singole Anche una serie di tornei interessanti Come gli X-Game e i tornei speciali World Tour Le gare che andremo ad affrontare Nel corso della nostra vita in Dirt 2 Sono di svariate tipologie Ci troveremo a guidare in un classico percorso rally Con l'ausilio di un copilota Oppure in un circuito per una gara a giri Insieme ad altri concorrenti La fantasia espressa da Codemaster in Dirt 2 Ci farà provare le mozioni di corse punto a punto Su auto velocissime Ed una buona dose di sfide stravaganti Come le Gate Crusher Ovvero corse nelle quali colpire piccoli cancelli gialli Per guadagnare tempo ed arrivare al traguardo Prima della fine di quest'ultimo Il nostro impegno sarà misurato anche in gare cosiddette domination Dove saremo costretti a far segnare il miglior tempo In ogni settore del circuito E nelle prove ad eliminazione Dove ogni tot di secondi Il pilota in ultima posizione verrà eliminato Come da tradizione Codemasters Già appurata in grid La giocabilità si attesta su livelli arcade Prendendo in prestito la fisica dai concetti simulativi Giocare a Dirt 2 è semplice Ma se vorremmo misurarci con livelli di difficoltà elevati Dovremo porre attenzione ai principi fondamentali della guida La facilità ed immediatezza di gioco Sono coadiuvate dal sistema Rewind Che ci consente di tornare indietro nel tempo E ripetere un ingresso di curva non troppo felice In generale sarà sufficiente dosare con saggezza Acceleratore e freno Per riuscire a rimanere ben equilibrati in pista Per gli amanti del cambio manuale La gestione di quest'ultimo è basilare E non verremo assolutamente puniti Se dovessimo entrare in curva con la marcia sbagliata Come già detto la qualità di Dirt 2 non si discute Il dettaglio delle vetture e delle ambientazioni Riesce a lasciarci in qualche occasione sballorditi Dirt 2 dà il suo meglio nella varietà di luoghi Dove ci troveremo a correre Dalla montagna della Cina alle foreste malesiane Passando per i deserti del Marocco Giungeremo nelle terre sconfinate dell'Ojuta E dalla vicina California saremo pronti a sfidare i migliori piloti Nei circuiti londinesi Per concludere il nostro giro nel paese del sollevante L'illuminazione gioca un ruolo fondamentale nella presentazione dei paesaggi Che risultano tutti avere un'atmosfera particolare E profondamente riconoscibile Riguardo la realizzazione delle vetture Dirt 2 non ha nulla da invidiare a nessun gioco di auto Le macchine sono riprodotte fedelmente E sono bellissime anche quando vengono disastrate dai nostri eccessi in curva Il sistema dei danni infatti Mostra sempre le nostre malefatte sulle carrozzerie dei nostri mezzi Precevoli anche gli effetti particellari Che garantiscono un forte realismo Quando osserviamo le ruote solcare gli asfalti sporchi di Dirt 2 E quando facciamo qualche scorribanda sull'acqua Un ottimo gioco che vale pienamente l'acquisto Dirt 2 avvicina amanti di giochi di corsa Con giocatori occasionali in cerca di puro divertimento L'altissima qualità dei menu Oramai una certezza dei giochi Codemaster Ed un piacevole doppiaggio in italiano Rendono in momenti pre-gara Già un'esperienza di gioco a sé stante Il comparto live è ben curato E gode di ottime connessioni Senza pericoli di fastidiosi lag È possibile creare una stanza Dove invitare alcuni amici E formare così una squadra pronta a sfidare il mondo Dirt 2, in conclusione Gode di un impatto grafico emotivo davvero positivo E promette di avere una discreta longevità Sicuramente uno dei titoli migliori usciti quest'anno Say it's all about to end Ciao! 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 Grazie a tutti.